Tra poco più di nove mesi Pesaro sarà capitale italiana della cultura e in questa rincorsa verso il 2024 la città di Rossini vuole farsi trovare pronta all'appuntamento attraverso un costante rinnovamento dei luoghi simbolo. Dopo il centro arti visive pescheria da domani giovedì 23 marzo sarà aperto al pubblico il nuovo percorso museale della sede di Confindustria Pesaro e Urbino. 62 opere non esposte ai musei civici aggiorneranno l'allestimento di Palazzo Ciacchi di cui una ventina sono state restaurate per l'occasione. Di queste opere 20 sono dipinti realizzati a cavallo tra 600 e 800 da autori marchigiani e napoletani, 26 sono ceramiche tra cui maioliche di produzione pesarese e 16 manufatti di arte decorativa tra sculture in bronzo, marmo e specchieri in legno. È il rinnovo di questa convenzione, di questa collaborazione tra pubblico e privato, la prima era del 2008, adesso ha opere completamente rinnovate, in parte Confindustria abbiamo fatto il restauro, abbiamo predisposto la sede con una forma nuova, un format diverso e quindi oggi lo inauguriamo. Siamo tutti molto orgogliosi, sarà aperto al pubblico, questo quindi permetterà anche al nostro palazzo, che io credo che sia una delle sedi delle territoriali di Confindustria più bella d'Italia, si inserirà nel contesto di Pesaro 2024 e in più anche il FAI quest'anno ha deciso di aprire le giornate di primavera con la visita al nostro palazzo. Sono opere completamente rinnovate, sono opere dei depositi dei musei che non potrebbero essere esposte nel museo perché è già pieno e quindi abbiamo dato i nostri locali, ci sono opere importantissime di ceramica, ci sono dipinti fra il 600 e il 700 e ci sono anche tanti specchi quest'anno nella nuova versione. Quindi diventano un ulteriore ampliamento del percorso museale, non è solo quantitativo ma è anche un sforzo maggiore che Confindustria mette in campo rispetto alle aperture, quindi si passa dall'apertura mensile degli anni scorsi pre-covid, per capirci, ai due giovedì del mese, il secondo e il quarto giovedì del mese e anche la stradomenica, che è normalmente un po' l'esplosione della cultura dei musei cittadini. Consideriamo che sarà una grande opportunità per tutti i pesaresi e anche per i pesaresi temporanei che verranno a visitare la città, il territorio per la Capitale 24, poter offrire un gioiello come questo, sia architettonico ma anche di contenuto. Dopo pescheria e Palazzo Ciacchi, a giorni sarà presentata anche la rinnovata Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Come luogo dello spettacolo dal vivo, danza, lettura e musica.